buongiorno della serie evviva la globalizzazione mio fratello mi ha regalato questa roba dall'australia salsa barbecue classica chiusura numerica per mettere sulla carne alla braccia andiamo a vedere dove è prodotta madre in polonia probabilmente questo barattolino dalla polonia è partito è andato in australia mio fratello è andato in australia ha comprato è tornato in italia questo barattolino ci avranno 20.000 chilometri detta così evviva la globalizzazione